Sono vogliosi di non perdere tempo e vogliosi di allenarsi per migliorare, quindi sono molto contento, le prime impressioni sono state ottime. Entusiasmo e lavoro sono le due parole chiave del neotecnico del Teramo Massimo Paci da qualche giorno a lavoro con la squadra nel ritiro precampionato. Ottime impressioni dai ragazzi, ma più in generale dalla società biancorossa. Ci sono tutti i componenti di una grande società e ho trovato un grandissimo potenziale che non mi aspettavo e sono contento perché essendo un lavoratore che a me piace lavorare, quando sei attorniato da gente che vuole far bene come te è sicuramente positivo. Poco giropalla, tanta verticalità e attenzione alla fase di non possesso. Il calcio che Massimo Paci vuol proporre è praticità e concretezza, ma soprattutto è fatto di mentalità e spirito di squadra. Parto dalla fase difensiva perché credo che una squadra, la fase difensiva, sia la base. Io ho fatto il calciatore e quando in campo eri organizzato e messo bene giocavi in assenza di paura. Credono molto nel gioco verticale perché è un gioco che mi appassiona e quindi cercheremo di proporre quel tipo di gioco compatibilmente alle caratteristiche dei giocatori. Però dove voglio lavorare è sull'aspetto mentale, sul creare una cultura nuova, diversa, in cui i giocatori sappiano esprimersi al massimo. Sul frontemodulo per ora l'unica certezza è la difesa a quattro e qui ci sono i primi esperimenti con Diakite che è provato esterno classico di difesa, ma che secondo l'allenatore potrebbe ricoprire anche il ruolo di centrale. Sì, stiamo lavorando con la difesa a quattro. Davanti potremmo provare un centrocampo a tre con i tre attaccanti o due centrocampisti, due mediani con i quattro attaccanti. Non credo molto nei moduli, credo che il modulo sia importante, ma in fase di partita possiamo anche cambiare. L'idea di partire con la difesa a quattro sì, quella ce l'ho. Sul mercato il neotecnico Biancorosso si dice certo che la società riuscirà ad allestire una grande squadra. Sono sicuro che cercheremo di fare la squadra migliore che potremo fare e a prescindere da tutto noi, io come allenatore, noi come staff, cercheremo qualsiasi cosa succederà nel mercato e ho grande fiducia che si farà una grande squadra di fare il massimo.